Mi chiamo Mauro Cattaneo, sono un architetto, la mia qualifica è BIM Manager, lavoro per una struttura che si chiama Division Architecture, che negli ultimi anni ha sviluppato all'interno un organismo, una società, dal nome BIM Factory, proprio per fornire servizi per quanto riguarda la progettazione integrata attraverso i sistemi BIM, quindi non soltanto la parte architettonica di progettazione, architettonica e anche strutturale, ma riusciamo a coprire anche quello che è il discorso del BIM e del workflow legato ad esso, sia in termini di realizzazione di modelli interoperabili tra di loro, che per quanto riguarda la scrittura dei modelli in IFC attraverso Archicad. La società nasce da una società precedente, fondata ancora nel 78, all'interno della quale utilizzavamo Archicad in modo propriamente BIM. Ultimamente, negli ultimi anni, il BIM che si è affermato come una qualifica e diciamo come un sistema di protocollo condiviso, ci ha permesso di aprirci a nuovi mercati sia in Italia che all'estero e oggi riusciamo a garantire un'interoperabilità tra i sistemi di gestione attraverso i modelli completa, quindi copriamo sia la parte strutturale che la parte architettonica. Oggi in Italia stiamo lavorando molto per quanto riguarda le imprese che ci contattano sostanzialmente per approfondire il discorso di gestione della commessa in termini di tenere monitorate quelle che sono le spese, i costi dovuti alla costruzione. I benefici di un utilizzo del BIM consapevole significa sostanzialmente riuscire a interoperare con dei modelli condivisi tra professionisti diversi che riescono a dialogare attraverso un sistema di comunicazione e di scrittura attraverso dei modelli. Questo significa porre al centro la comunicazione del dato e il dato diventa interoperabile, nel senso che i professionisti abbandonano l'idea di utilizzare solo semplicemente parte, diciamo così, di disegno cartaceo per affidarsi di più all'interoperabilità di comunicazione attraverso i modelli, in cui la centralità è sempre comunque nell'individuo ma passa attraverso la condivisione di sistemi più ampi. Per noi Archicad diventa un contenitore all'interno del quale vengono assemblati più modelli, modelli di natura diversa. Si parla di modelli strutturali che provengono ad esempio da software diversi, più specialistici per quella disciplina, a modelli impiantistici. Archicad, la mia azienda ha deciso di adoperare appunto Archicad per beneficiare appunto dei sistemi di integrazione, che Archicad riteniamo che sia il software numero uno per l'integrazione di modelli che provengono da discipline diverse attraverso la scrittura dell'IFSI. Grazie a tutti!